premio premio strega e 2023 premio strega vuol dire parlare di libri e vuol dire parlare di libri si parla di libri e qua io vi presento dei libri vedete e colui che vi sta parlando Serafino Massoni che era figurato in questa foto vedete eccolo qua Serafino Massoni e qua ci sono i libri scritti da Serafino Massoni ma ci sono anche queste due opere allora premio strega 2023 premio strega 2023 io Serafino Massoni non ho mai ottenuto nessun premio letterario però però sono l'autore anche di la lama e la rosa vedete la lama e la rosa edizione internazionale a Shet si trova nella nella collana codici segreti della storia vedete beh io non ho vinto nessun premio letterario però tanto per fare un esempio questo mio romanzo storico la lama e la rosa ha venduto oltre 50.000 copie e io ho avuto oltre 15.000 euro come diritti d'autore e se voi non ci credete voi potete scrivere alla casa editrice internazionale a Shet la email la trovate sul web e dite cara casa editrice internazionale a Shet c'è un certo Serafino Massoni che va dicendo che ha venduto che lui Serafino Massoni cioè che tu hai venduto oltre 50.000 copie di la lama e la rosa e che lui ha avuto 15.000 euro come diritti d'autore è vero o non è vero capito ok quindi a me interessa poco che non mi hanno dato nessun premio letterario a me interessano i fatti i fatti i fatti concreti i fatti concreti sono che questa mia opera questa mia opera ha venduto oltre 50.000 copie ed io ho avuto e 15 oltre 15.000 euro come diritti d'autore poi ho avuto anche diritti d'autore per tante altre opere che sia chiaro che sia chiaro ho avuto diritti d'autore per esempio vedremo la stirpe del serpente ha venduto tante 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 copie ha venduto tante copie e ho avuto anche diritti d'autore dalla casa editrice leonida e il cui editore è Domenico Polito e ora vedremo quanto venderà la cometa dell'imperatore e circa circa il mondo editoriale io riconosco meglio delle mie delle mie tasche perché tra le tante tra le tante opere che io ho pubblicato c'è anche questo pamphlet è un pamphlet vuol dire opuscolo polemico editori e scrittori voi pensate che questo pamphlet questo opuscolo polemico intitolato editori e scrittori è stato recensito persino dal Corriere della Sera nella pagina culturale del Corriere della Sera capito non ci credete si voi in un commento a questo video scrivete io non credo che il Corriere della Sera ha recensito questa tua opera questo questo editori e scrittori non ci credo e io vi dimostrerò che invece è stato proprio così il Corriere della Sera nelle pagine culturali perché è quasi spiega e come funziona il mondo dell'editoria è quasi spiega come funziona il mondo dell'editoria cari amici perché il 95 per cento il 95 per cento dei libri sono pubblicati sono pubblicati a spese degli autori degli autori sono autori proprie spese autori proprie spese di cui parla di cui si parla nel celebre romanzo il pendolo di Foucault il pendolo di Foucault il cui autore l'autore è lo stesso che ha scritto il romanzo Il nome della Rosa siccome non mi è simpatico questo autore mi sfugge mi sfugge mi sfugge il nome mi sfugge il nome della Rosa il pendolo di Foucault eccetera il pendolo di Foucault in pratica è dedicato proprio agli autori proprie spese che sono indicati con l'acronimo APS autori proprie spese allora vi dicevo che io qua vi ho dimostrato cioè ho documentato che almeno il 95 per cento dei libri pubblicati che poi non arrivano in libreria sono pubblicati a spese degli autori autori proprie spese poi c'è il 5 per cento dei libri pubblicati arriva in libreria ma si tratta di case editrici che pubblicano a proprie spese non a spese degli autori e non è mica facile arrivare a una case editrice che pubblica a proprie spese a proprie spese non è facile guardate diciamo così che su 10.000 dati lo scritti o manoscritti 10.000 su 10.000 cioè su 10.000 scrittori esordienti 10.000 dicessi 10.000 uno arriva ad una case editrice che pubblica a proprie spese cioè a rischio di presa 10.000 10.000 scrittori di questi 10.000 scrittori soltanto uno riesce a pubblicare per una case editrice decente cioè una case editrice che pubblica a proprie spese gli altri 9.999 pubblicano a proprie spese va bene ok motivo per il quale questo pamphlet cioè questo puscolo polemico editori e scrittori è stato recensito nelle pagine culturali del Corriere della Sera beh ma anche altre opere sono state recensite sui giornali anche altre opere anche se non è facile poi a me non interessa non interessa perché io delle mie opere parlo a su a beh insomma anche poi anche quest'opera qua questa è stata questo 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 saggio storico linguistico per esempio di questo saggio storico linguistico aspetti della lingua inglese e ne ha parlato il quotidiano romano della repubblica eccetera 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 e poi ci penso da solo io da solo sul web ci penso a pubblicizzare le mie opere ci pensano anche i miei editori che portano i miei libri li portano in libreria ma ci penso anch'io sul web perché io opero sul web dal lontano anno 2007 sono sul web sono su youtube dailymotion instagram facebook e last but not least twitter 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 ok cari amici bene cari amici premio strega 2023 i finalisti ovviamente la notizia l'ho letta sul fatto quotidiano e ve la metto con il link nel riassunto di questo video così voi potete leggere nella sua interessa interessa l'articolo di giornale su quale si basa questo questo mio video va bene cari amici per cui a tutti voi tanti cari saluti dalle opere di serafino massoni ci vediamo ciao